Ciao! Oggi ci sono quasi 15 gradi. Felpa, giacca per stare fuori. Il senso di questo video qual è? Guardate un attimo questa foto che mando adesso. Era lo stesso periodo un anno fa. Eravamo in maniche corte e in fradito. Facciamo molto caldo. Stavo facendo uno styling di fine estate. Capirete che la differenza di stagione tra quest'anno e l'anno precedente è notevole. Solitamente in questo periodo avremmo ancora una quindicina, venti giorni di lavoro pieno. Lo scorso anno è stato fenomenale perché comunque la stagione è andata avanti un bel po'. E allora capiamo che con un andamento così instabile è inutile calendarizzare le situazioni. Cioè le concimazioni saremo poi arrivate in ritardo, alcuni interventi saranno arrivati in ritardo e più che altro le piante, ad esempio nel caso dei ginepri, lavoreranno un po' meno. Quindi chi ha fatto una potatura tardiva si troverà poi in inverno con una vegetazione meno folta rispetto allo scorso anno. Vabbè, poco cambia se non dobbiamo esporre la pianta. È un problema se invece dobbiamo esporre la pianta poi ad inizio inverno, pardon, a fine inverno, inizio primavera. Va bene, tutto questo per capire che la stagione ci ha un po' fregato. Ma dobbiamo vedere un altro risvolto. Tempo fa avevo fatto un video in cui mostravo la senescenza di alcune piante via le alberati con queste foglie già ingiallite che cadevano ed eravamo praticamente in agosto. Questo era dato anche da un problema di idratazione e di caldo dovuto al caldo e alla carenza di piogge. Ebbene, forse questo freddo non viene a nuocere, questa temperatura piuttosto bassa perché oramai innescata la senescenza le foglie non hanno più l'efficienza che avevano prima. E quindi andare a riposo un po' prima forse potrebbe anche fare del bene. Potrebbe così andare a colmare quel gap che c'è stato per una senescenza prematura. Ovvero la pianta non ce la faceva più, ha invecchiato le proprie foglie per lavorare meno. E cosa succede? E' chiaro che se ci fosse stata ora una ripresa vegetativa a un periodo lungo la pianta sarebbe stata in difficoltà perché aveva necessità di fare fotosintesi ma non aveva abbastanza fogliame. tradotto è un risveglio di gemme latenti che poi non riescono a maturare. Bene, questo problema grazie a questa temperatura viene meno e per cui diciamo che un autunno anticipato forse può essere utile a mettere pezza ai danni di un'estate troppo calda e troppo asciutta. Grazie. 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 Grazie.